Io ovunque ho incontrato delle persone che come voi vivono come schiavi. Ma se Martha Jones è diventata una leggenda è sbagliato perché non sono io quella importante, è qualcun altro. L'uomo che mi ha fatto venire qui e che mi ha detto di attraversare la terra. Il suo nome è il Dottore. Lui vi ha salvato la vita così tante volte e voi non sapevate nemmeno che c'era. Lui non smette mai, non si ferma mai. Lui non chiede mai di essere ringraziato. Io l'ho visto però. Io lo conosco bene. E io lo amo. Lui non chiede mai. Lui non chiede mai. Lui non chiede mai. Lui non chiede mai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora io gli dirò, in questa mattina di Natale, bravo signori! Bravo! 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 Bravo signori!